Forte del successo alle urne a Piacenza e del mutato quadro politico a livello provinciale, la Lega Nord inizia a fare la voce grossa e chiede le dimissioni del presidente della provincia Francesco Rolleri e del presidente della conferenza sociosanitaria Patrizia Calza. Il PD faccia un passo indietro, hanno chiesto a gran voce i vertici del carroccio, il segretario Pietro Pisani insieme con il consigliere regionale Matteo Rancan e il neoconsigliere comunale Luca Zandonella. Secondo Pisani, chi ha eletto l'attuale consiglio provinciale è espressione di amministratori comunali che sono stati sfiduciati alle ultime elezioni. Gli elettori ma non solamente di Piacenza anche degli altri quattro comuni della provincia hanno scelto di essere amministrati da sindaci del centro-destra. Questa scelta comporta il fatto che ormai territorio provinciale è amministrato il 70% dei cittadini amministrato dal centro-destra, mentre invece la provincia è amministrata ancora dal centro-sinistra. Quindi ci vuole un cambio di passo, cambio di passo che non è previsto, non mi sembra che sia previsto dei regolamenti ma che comunque politicamente è richiesto da noi. La presidente, chiediamo al presidente della provincia di fare un passo indietro e di dare la possibilità agli amministratori del centro-destra di andare ad amministrare anche la provincia. Ma la vittoria del centro-destra spinge i leghisti a dichiarare guerra anche al presidente della regione Stefano Bonaccini. Ci prepariamo alle elezioni per arrivare a governare l'Emilia Romagna. Visto che la macchia d'olio si sta allargando, anche Parma, la Lega ha avuto un risultato molto buono in queste ultime amministrative, penso che Bonaccini debba cominciare a temere per la sua poltrona.